Raccontami di quando hanno abbattuto un quadrimotore, un bombardiere, la contraerea tedesca ha abbattuto un bombardiere B-24. Un bombardiere B-24, raccontami un po'. L'hanno spezzato in due, perché non è caronade e lo spezzato in due. Allora due cichieri intercarlinghe sono morti, che l'hanno che c'è del mitraglino e l'hanno salvato. L'hanno che l'hanno che si è arrivato a partire in dire. E l'hanno che dopo l'hanno che si è arrivato a l'hanno, non ero già. L'hanno che si è arrivato insieme a Todes, che tiravano fuori i morti e c'eravano i documenti. Quanti morti c'erano? Quanti? Eh, saranno stasi una decina di morti. Però? Eh, mi parla. Anche di poi. Anche di poi. E li hanno distesi tutti a terra lì? Sì, dopo gli hanno portato via gli hanno portato il smettiere di Cologna. Di Cologna, dove ci stava di odio? Ma che l'hanno fatto. Allora lui compriva fuori i documenti sulle idee dei Todeschi. Pacifica. E' vero. Chi è venuto a prendere le salme dei ragazzi morti? Ah, non lo sai. Non lo sai? Ah, perché avevi paura avvicinati? Sono venuti i portandini dall'ospedale. Non lo sai. Sono venuti i genitori dell'Iran, non sono venuti dell'America. E anche per soldi militari dai miei nostri. Sì. Ma ho detto io, non lo sai qui. Io sono stato fin lì. Ho stato poco veduto che tiravo il fuoco. Io sono lì. Ho visto un tedesco al corpo. E mi ha detto. E a me mi ha fatto cos'è? A me mi ha detto. A me con le massi in pistola. Anche a me? Non potevate avvicinarvi. No, no, no. Io dovevo andare a casa perché venivo da un altro paesetto. Sì. Quando erano andando a casa, attraversando i campi. Anche lì erano fermi. Vabbè, ma dopo hanno portato due tessimitiere di Cologna. Che dopo hanno portato via io. Sì. Cosa è vero? Io ero un... Ecco la spartillare là. Tutti i giovani quanti anni avevano? Quanti anni avranno? 22, 23, 20 anni. Tutti i ragazzi giovani. Tutti i giovani. Erano con la tuta, avevano tuta addosso. Sì. Ma che puttana! Tutta d'aviazione. Aveva il paracadute in dosso anche ora. Paracadute aveva. Sì. Ho fatto in tempo a viaggi, no? Faccio che le cannonade in rioade prende e ha scoppiato quasi le tue. le tue. Quasi. Le tue. Ma le ha spezzate l'aereo in due. Allora quando aveva cominciato il baracadute, senti le tue. Sì, sì. Non sono arrivati. Ho capito. E il paracadute. Quindi sono morti. Lì ha colato un altro che si va a viaggiare. Lì, a Torreano. Lì, a Torreano. No, paracadute. Dal me era un caccia. Dal me? Che si va a viaggiare. Sì. Se cura in tutte le paracadute. Passo le vacchiarle. Sì, le vacchiarle. Sì, sì. Che lei era un caccia. Anche quelle le aveva buttato giù. Ho visto la viaggiare. Anche quelle le aveva buttato giù. Anche quelle le hanno buttato giù anche un caccia. Allora, va bene. Ok. Anche quelle le aveva buttato giù lebuat ducati. Uncaduto. La scuola. Questa è moltissima. Che zuca. La scuola. Questa è la scuola. Questa è un caccia che chiama. Che a te. Questa è la scuola. Quei! Grazie.